Sentiamo un po' di nostalgia. Di chi? Ma una persona che si canta di contipietre, vota per Berlusconi e lo chiami responsabile. Io no. Per cui detto questo, alla fine, ognuno di noi dovrebbe vivere due volte per non sbagliare. Fu un errore di valutazione. Due, Gesù Cristo, il Padre Eterno, ogni dodici le cannava uno. Io che sono povero Cristo, ho cannato due, ne ho cannati due. Grazie Filipone. Però voglio dire...